ciao e benvenuti su gallo play in questo video vi spiegherò come ottenere il trofeo sincronia in aragami nightfall cioè nel dlc di aragami per ottenere questo trofeo dobbiamo uccidere due nemici in contemporanea usando il gemello ombra ovviamente lo si può fare solo in giocatore singolo praticamente utilizzando il l'abilità gemello d'ombra in realtà non facciamo altro che dire al nostro compagno di uccidere un determinato nemico e sprecheremo così una delle due abilità disponibili una volta che attiviamo questa abilità noi dobbiamo immediatamente uccidere un altro nemico e quindi far sì che muoiano praticamente insieme c'è bisogno di sincronizzarsi al cento per cento la lama non deve colpire esattamente nello stesso identico momento mentre il compagno fa l'animazione per ucciderlo noi possiamo uccidere il nostro bersaglio ora vi farò vedere esattamente in questo punto come ho fatto io prima di tutto ho selezionato l'abilità ombra gemella mi sono guardato un attimo attorno per sicurezza ho puntato il nemico più lontano e ho detto tenendo premuto triangolo al mio compagno uccidi quel nemico lì mentre lo uccideva ho premuto quadrato per uccidere il nemico qui davanti a me bene per questo video trofeo è tutto come al solito vi chiedo di mettere un bel mi piace di commentare e di iscrivervi se non siete ancora iscritti e ci vediamo al prossimo video trofeo di aragami ciao iscriviti al canale